Ehm... ragazzi già detto happy pride ringraziamola ho visto praticamente che c'è che c'è solo una massa livello 4 non mi ricordo sarà ecco pure zero mi sa che era ecco perché è perché mi ha detto happy pride io ho detto perché ha messo e se si guarda il mio cervello e se mi sblocca si basero ai per me lo aiutavo cioè sarò sarò ai per me lo aiutavo capire a premis blocco prima la cupa e la doppia buona da moina trozza quelle a me devi aspettare l'acqua per andare in poco siano troppo a quelle di oman fight e maschile che maschile tiene mal fatto un bello effettivamente ma era figata che ti può me chavarli ho cambiato bene dai no 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 via che è triste o buono buono l'ho preso ho preso no devi aspettare che pusci no no non puoi farlo di aspettare il rovinio che c'è pike ok l'ho preso anche lei sì perché l'hai fatta mi ha più molti danni a guardare di qualche scudo ti do è perché la è perché ciò lari cioè come si chiama il coso l'esserino piccolo mi viene il nostro se bastanti sul livello due aspettiamo io devo arrivare a livello anche io devo assolutamente e lo so poco non ne passiamo comunque si può ciolla ciolla e comunque però non possiamo 6 a metà vita non possiamo viaggiare recupera tanto sono la mia passiva sì sì esatto perciò di aspetta che si carica pomeni l'altra parla aspettiamo che si trascia stato questo sottotone si sia stato bravo hai capito sì vabbè buongiorno fai che si va bene sia che si fai ma io già non ho mano a cristo santo e va bene diciamo non è stato per esser giocato così cosa che vabbè ma dimmi che vabbè io ho fatto un po di donna a zero io ho fatto tanto da non essere appena bene mai che cosa ci risolvi che mi hai grabbato bravo e sprecato umana è visto che ho fatto paese comunque hai visto che io ho usato perché ho ammazzato non so che ha visto quanta quanta vita aveva zero hai visto quanta vita teneva a zero l'ho voluto ammazzare cosa ho preso prima con la indovina come ho fatto una bandiera no te l'ho detto è fortissimo jarvan full api è fortissimo hai visto quanto danno fa te lo prendo io se non ci riuscivo a bussare questo pare vogliamo questo pare vogliamo non so se hai visto paese è trovata si si paica buongiorno sì bravo paese pare che sono nato ieri che non lo so che mi volevi peitare male andiamoci andiamoci non ci diciamo andiamoci ti paro qualche hit secondo me la doppia pucca uno stand no forse l'accuno lo so ci mette sul fumo che facevano una nuova alla fine del dottore il dottore la cura che vota ok perfetto ok che mi pinto dietro io mi pinto l'utens tu con fai come vuoi quasi pure io dai che vediamoci full damage cazzo ce ne fotte a noi attacco e dice che mi dovrebbe indiani ma secondo me non conviene st te lo dico da quando l'ho rivolcato a merlin under fa super schifo quando hanno messo che solo ai video bonus d'accordo no diego per favore no si ingaggia viego non sono te visto quando poi che andato rinontato poi non ha sì 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 è stato bellissimo perché tu l'hai la stunnata è stato bellissimo che si fanno mamma mia notificato e fortissima se non riusciva a questa combo secondo me è merito che fa viego ma ma paica che già paica che lascia la decida solo comunque io ho parato il danno con la scusa non ti rubo più mi vuole vedere quando caspite di danno ma viego cosa fa io non dico che l'hai soltato però io te l'ho detto ma io ma io guarda quanti danni gli faccio guarda già metà vita usato ti potrebbe vabbè bike bike e comunque bike e il cosplay della tizio di prima cioè il regalo di prima non so se io ho scrivato la cucina mia doppia punti si è stata bellissima o poi subito è subito un deficiente vedi se esce a rallentare no 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 perché non non ce la fai non ce la fai comunque stiamo martoriando anche loro non vorrei dire ma state perdendo contro un mocai che ciò fa più bella prima foto no per la seconda abbiamo giocato insieme o io di fomo per più non ho mai giocato però a prenderci nome sa che l'altra preta non ci facciamo ti aiuta a pusciare mi serve poi vai 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 andiamo c'è l'andiamo c'è vabbè bike però se imbarazzante tu ne c'è spugli ricordate a ricordati che c'è spugli le piante fanno più male vabbè te lo ricordo a titolo informativo diciamo ancora comunque controllata alla fine della scorsa partita c'è ancora quella world c'è ancora la world e la world ma è che ma trovano stil posti due hanno affrontato non so no mi sa che vuole gancare pensa che vuole gancare solo che non c'è nessuno e poi abbiamo ci proviamo sede questi vanno a farlo non ho flash con la doppia passo aspetta mi aspettami controllo aspetta 12 andiamo no io sono fuori fuori sono fuori non ero posizionato ma io scappare la pianta non puoi ma lei che lato uno sbaglio o guarda bike bike pure voleva intare guardando la vita c'è a mi sembra un po che ritmo poi che tanto solo bike pure è morto ma perché pari sei una merda mi sono vivo a caso guarda lì va bene e non glielo scrivo comunque abbiamo abbiamo fatto triple kill con due di pure fuori no no io sono entrato adesso no no io sono entrato fa ucciso di aiutato tutti in tre andiamo io sono fuori comunque il fatto aspetta ma no pensavo pensavo che la mia passione sia mia passione scalava con comunque che genialata fare sto pic giovane api è troppo bello ma pure sì sì è vero se entrambi belli confermo il cliente la prima volta uno scaling aspetta che adesso voglio provare a vedere se se la world resta hai capito guarda qua se non sbaglio io con le po ma era con le patrine che posso trasformare le world in meno ricordo ok ciò la ulti anche è un po farmato dopo dire no 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 sono morto ero stunnato per 10 minuti per così tanto e poi fa nulla fa nulla di passate no 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 basta basta passano di seguire lo basta 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 porco 2 basta ti ammazzo no che non mi ammazza sono troppo più per essere ucciso vattene vattene non lo riesce a raggiungere un pike però è imbarazzata c'è un paio che imbarazzante ma comunque un bike io c'ho usato lei di fronte a me io quello ucciso ciao al sono il tuo peggiori incubo bellissimo sì al vabbè c'è faccio troppo danno con la e era la paura io faccio troppo danno con il però non ci ho fatto vabbè lo sai che non so che bizzarmi ma poi che fa danni si fa danni ok ha seguito fatto di le andris che dice di lunedì cioè ci sta ci sta ma vediamo quanto armatura hanno non hanno un cazzo di armatura quindi mi conviene abilitarmi i calzari così di nuovo la r pure io perfetto noi ci non andiamo sui zera che sarà può di uscire dalla mia andiamo su su pike che appena usa la e lo ingaggio io io ingaggio tutti a prescindere io no io non io non di scrivino io ingaggio a prescindere sono dentro al cospuglio pure pike guarda un po mica l'hai vista di passi sì l'ho vista purtroppo c'è ancora la che palle se ne ha scusa non ti rompiamo nella natura poi la distruggere la cosa e tu premier e poi le varie dato è eh sì lo so ha giusto è però è rostrannato dove è entrato in modalità salti e non si lo sto cercando cosa io ho usato lei a caso per vedere magari se ci sta venendo a pushare ma non era così magari abbiamo celle plate ma non so è che quando sto con te o fortuna che c'è 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 il nostro amico va bene o basta non ci riusciamo non lo fare madonna santa o santo è perché dove sei quelle persone tiene la ecco non lo possiamo affrontare vai violenti tanto non ci possono inseguire via no no e zero cosa fa o no questo è palino questo è un panino ma no ma no bike ora dice c'è il nostro amico essere a no c'è il nostro altro nostro amico dai che palla non sono riuscito neanche a prendermi l'assist dai facciamo gesto drago facciamoci tanto non c'è il giallo e quindi per fare quindi ma aiutatemi ma aiuta mi ami del cazzo niente voglio dal drago perché quest'area un attimo ma perché non mi avete aiutato a prendere il coso ma pigliate quello vuoi il drago basta non mi aiuta più a prendere il drago no che fa no sono un testamento non vuoi scendere l'autonomia ciao ciao e dimmi che usa la e usa la e usa la e che ti foto è no troppo veloce che è nato oddio ma faccio faccio un bottigliano perché tieni che mi sa che la passi a scala con la p ma scusate ma erano senza jungle perché non si sono fatti il drago ora se lo fanno col jungle avversario ma perché non vi fate il drago io ho cambiato vabbè vabbè non facciamo i tagli conto degli avversari competenti l'abilità lasciando che prima ci hanno fatto e fa prima no no ma del fortissimo non è che ci vuole tanto a premerare comunque un'altra cosa nuove però è difficile mirato scritto e tutto ma se ritorna anche indietro e no l'accusi l'acqua in particolare la era e guarda avremmi dubbi che non è difficile ho visto gente mancava più volte o ma uccidere credenza da dove stessa parte no no aiutiamo l'aiutiamo a farlo non ci riusciamo è un po veloce dando quel corso sì non so come chiamarlo non è neanche più un umano lo so però non è un'altra volta ma ve l'ho tolta cinque secondi fa ma perché ripiazzarla nello stesso punto potrebbe aiutare scusate sì sì a zero per il provoci vi tolgo anche la possibilità di lasciare oltre il muro ma che no 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 via via no 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 non ci riusciamo hanno forse sì agli gianciano ulti non mi risolto minimamente quanto viaggia lontano tu non ti preoccupare di quanto viaggia lontano perché viaggia lontano un bel po riuscirà a prendere no perché è troppo veloce quello schifo per qua ma perché ma ma che era che ma che schifo ma che vuol dire merda era quello che è il blu sorry for the caps lock ma ce l'avevo attivata prima non so se ci faccio abbastanza danni per anivia o grande no 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 scherzavo scherzavo ma nidia ma nidia flash non lo so però l'ho fatto e questa la cosa che conta no no però flash attaccato un secondo a stare un uomo contro la diretta ma ce la fai non è molto forte ma usato il muro per aiutarmi palese arrivo e il mio blu a rite il cazzo hai capito mi serve mano io non ce l'ho purtroppo ma so stupito mamma mia sono stupidi madonna di 61 cazzo no ma non ha chiamata nivi ha fatto un sacco di kill in team fight anche stilandomi una kill che avevo fatto con l'ignite 100 c'è non me ne fai ne è morto non me ne fai ne vabbè c'era anche poi quindi win win situation e chi mi pinto lo dopo ok secondo te che ti pinto tu che tieni prova dopo il ludens non mi guarda un attimo ti conviene l'ombra fiamma secondo me lo fermo perché se non sbaglio la passiva se non scala con la p scala se non sbaglio con la vita può essere per fatto ti conviene allora mi per dopo fatti e dopo fatti le concentrazioni dell'orizzonte perché dato che la cuola e lato doppia no l'acqua non è un'abilità appuntamento ti fa da fare molto l'ultima no no la doppia però qua dice le abilità a una volta quindi vuol dire che non è scelta come per soli mi faccio un altro cresciuto forse sì sì perché è importante che fortissimo quella via 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 se i paichi domani mi riesce a prendere sì sì ma comunque la ultima e scala con l'80 per cento di danni magici ho fatto l'attacco a sorpresa pike ma è comunque un coglione quindi non mi è riuscito a prendere ma che cazzo fai bike madonna e non perciato di salute sono andato a tossa di roma non so ma ma questa questa mossa pike dove t'ha portato fammi capire no perché è una cosa molto interessante dovrà averla ammazzato lo stesso che culo guarda con quanto è rimasto quel pezzo di merda della mappa tutto questo pezzo di merda con quanto di vita è rimasto non vorrei dire ma adesso fare un gioco preferito molto divertente c'è poi che ha poca vita quindi regola ma no giusto lo tiene la possibilità del cazzo può rigenerare anche vita io mi faccio il cosmic drive anche la mia non è una politica appuntamento quindi mi sa che dopo non mi ha detto è perso il flash più bello e purtroppo no stavo pensando alla tenda prende ho detto io di tutto ciò prima io ora mi sono ricordato mi sono fatto il cronografo potevo pararmi benissimo dalla ulti di paico ma no ma non ha sorrendato mi piace sta combo non solo jungle di fani via bastava vedere ok 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 ok